Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Ci colleghiamo con la Liguria, dove abbiamo il dottor Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria, Imperio, La Spezza e Savona. Pronto, dottor Lupi? Buongiorno a tutti voi. Qui sono splendido. Ma che bello, quando pensiamo alla Liguria per forza, il sole lo pensiamo splendente sul mare, sulla riviera. Dottor Lupi, io da Ligure non posso che essere felice di poter parlare con lei e del nostro meraviglioso olio. Olio extravergine, cultivo artaggiasca in olio oliva. Bella, bella. Infatti, olio oliva, questa festa dell'olio nuovo che si terrà a Imperio Neglia dal venerdì 3 a domenica 5 novembre. E sarà una celebrazione di uno dei prodotti forse migliori d'Italia, che possiamo far godere a tutti coloro che possono veramente vedere una bellissima Liguria. Allora, noi celebriamo la ventitresima edizione di Olio Oliva, questa vetrina dell'eccellente della Liguria, non solo. Abbiamo un programma fittissimo, degustazioni, assaggi, ma cultura, anche qualche spettacolo ludico. Il valore di questo evento è che tutta la città partecipa. Bello. Quindi vetrine adobatte a festa, un concorso nei bar, dei cocktail, piatti a tema nei ristoranti. Pensate che nei ristoranti avremo un assaggiatore dell'olio che spiega le caratteristiche commensali e un sommelier che promuove i vini Liguri nelle serate di sabato. Che bello. Quindi le vie e le piazze di Imperia saranno invase da stand in cui si potranno appunto assaggiare, acquistare i prodotti tipici della terra Ligure. Naturalmente l'olio, l'oliva e la regina, abbiamo sia il re che la regina. E quindi lo ricordiamo, da venerdì 3 a domenica 5 novembre, olio oliva, festa e l'olio nuovo a Imperia Oneglia. Dottor Lupi, mi tolgo una curiosità, l'olio nuovo, lei come lo mangia? Come lo mangia? La fettina di pane? E poi l'assaggio sulla bruschetta, sul pane, sulle verdure e soprattutto sul nostro splendido pesce perché il nostro olio è direi veramente il super perché è estremamente delicato, gustoso e col pesce esalta le sue proprietà. E' vero, ma io non lo so, io sono per la classica bruschetta lì dove l'olio si sente, rimane in bocca questa aroma. Va bene, insomma, mi sta venendo l'acquolina, mi sta veramente venendo l'acquolina. L'appuntamento è il prossimo weekend, non questo che arriva, ma quello dopo, a Imperia Oneglia per la celebrazione dell'olio nuovo e dell'oliva Ligure. È bellissimo, veramente molto, molto. Noi la ringraziamo, ringraziamo Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Veniamo con il pullman. Noi ci saremo, grazie. Arrivederci. Buon lavoro. Saluti a tutti. Un saluto alla mia Liguria.